Beh, io ho avuto la fortuna di conoscerlo e ho avuto la fortuna di discutere con lui, di lottare insieme a lui. Ehm, lui diceva spesso che ciò che ci univa erano dei valori di fondo molto importanti e che questa battaglia, diciamo così, era in grado di avere dei risultati proprio perché eravamo persone che credevano nelle cose che facevano e che avevano una certa coerenza. Ehm, il ricordo personale che 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 mi rimane più forte tra le tante cose che ho avuto la fortuna di fare assieme a lui, ricordo il venticinque aprile a Marzabotto. Eravamo stati chiamati dall'AMPI e facemmo un comizio insieme, tra l'altro il venticinque aprile a Marzabotto, molto bello perché lo fanno in mezzo a questa distesa Montesole, quindi c'erano un sacco di giovani, di persone. E mi ricordo che in quell'occasione, ancora una volta a proposito di coerenza, nell'intervenire stavamo celebrando la giornata della liberazione, della resistenza, colse l'occasione per riaffermare una cosa che ha detto anche adesso, cioè di come bisognava dire sempre e comunque di no alla guerra e il suo crucio era proprio quello di non essere ancora riuscito nel mondo a sconfiggere la guerra, nel senso di superare il concetto stesso della guerra come sistema di relazioni tra le persone. Io credo che questo sia un messaggio molto importante alla luce anche di quello che sta succedendo e ricordo che tra l'altro il giorno che purtroppo lui è venuto a mancare, proprio in quel giorno, visto che l'aveva scritto la sera prima, è uscito, se vi ricordate, sulla stampa un suo articolo proprio sull'Afghanistan. È stato pubblicato purtroppo proprio il giorno che lui è venuto a mancare. Credo che in quello scritto ci sia tante verità dove lui ricordava come la democrazia non si esporta con la guerra e come in realtà la vera lotta per la democrazia e la libertà è proprio quello di affermare una cultura dei diritti, una cultura del valore. Non è un caso che lui diceva no alla guerra senza sì e senza ma e tutta la sua vita l'ha passata a difendere un diritto fondamentale che è il diritto alla salute e soprattutto, come diceva lui, alla sanità pubblica come diritto fondamentale. Ecco io credo che come si dice Gino continuerà a vivere per ciò che ha fatto, per ciò che l'Asia e da un certo punto di vista continuerà credo assieme a noi a combattere perché quei valori che ci hanno unito quando eravamo in vita ci continuano a unire non solo nel suo ricordo ma nella necessità di realizzare quegli obiettivi. Grazie davvero Gino, ti abbiamo voluto bene. Grazie segretario per aver condiviso con noi la tua emozione e il palco è tuo adesso. Grazie a tutti, non era prevista la domanda su Gino Strada, era fuori programma, ma innanzitutto vorrei tranquillizzare tutti il mio primo intervento sarà abbastanza breve. Di solito non si dice ma stavolta lo farò anche perché dopo questa mia breve introduzione avremo gli interventi dei delegati, delle delegate e alla fine ci sarà un'ulteriore risposta ai temi che emergono, alla discussione di questa Assemblea per insieme indicare le cose più importanti che vogliamo fare. Io voglio semplicemente con questa introduzione motivare le ragioni per cui siamo qui perché abbiamo scelto di organizzare questa giornata e il significato che vogliamo dargli. Abbiamo scelto di ripartire perché il tema che abbiamo di fronte è proprio come ripartiamo e come riprogettiamo il nostro Paese dopo la pandemia che ci ha colpito e da cui non siamo ancora usciti e aver scelto di essere qui insieme ai delegati, alle delegate dei luoghi di lavoro, dei territori, delle leghe e di aver collegato come ricordavano prima Giacoma e non mi ricordo e Roberto le 120 camere del lavoro quindi stiamo facendo anche un esperimento molto importante ma che credo voglia mandare un doppio messaggio molto forte. La bellezza e la forza di un'organizzazione come la CGL è proprio il fatto che siamo presenti in tutto il Paese, in tutti i comuni, in tutti i territori e la nostra forza e la nostra bellezza è proprio il fatto che esistiamo perché ci sono persone che come voi ogni giorno ci mettono la faccia nei luoghi di lavoro, lottano, cercano di tutelare le persone e in questo contesto il messaggio che vogliamo mandare è proprio il fatto che uniti, insieme, siamo una grandissima forza sociale organizzata e siamo sempre stati, vorrei ricordare questo perché è un elemento che riguarda la nostra storia non ci sono tante organizzazioni che possono vantare di avere più di cento anni e di essere in grande forma e di avere una grande voglia di vivere e di cambiare sostanzialmente le cose e questo elemento noi lo possiamo fare e lo possiamo essere proprio perché noi nella nostra storia non abbiamo mai rinunciato ad essere un sindacato di rappresentanza sociale che non si occupa solo delle condizioni di lavoro ma noi abbiamo sempre avuto l'ambizione e continuiamo a avere l'ambizione di rappresentare tutti i bisogni delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e il nostro obiettivo vuole essere quello non solo di migliorare la condizione di chi lavora ma vogliamo nello stesso tempo cambiare questa società e affermare un diverso modello sociale fondato davvero sul lavoro, sui diritti, sulla giustizia sociale e sulla libertà e da questo punto di vista voglio cogliere l'occasione ed è bene che si sappia in un momento in cui a volte questi elementi di fondo vengono nascosti o spariscono anche nell'idea comune noi esistiamo, la CGL esiste perché anche adesso ci sono più di 5 milioni di persone che ogni giorno hanno deciso di essere iscritti alla CGL e che con il loro contributo economico oltre che con il loro contributo di partecipazione permettono a tutti noi di svolgere queste iniziative di fare il nostro lavoro e di battersi ma allo stesso tempo voglio ringraziare e abbracciare anche tutti i delegati e le delegate che sono collegate e che oggi non sono qui perché stiamo parlando di centinaia, di migliaia di uomini e di donne insisto su questo punto che ci mettono la faccia, che nei luoghi di lavoro tutelano le persone ma che soprattutto tutti assieme abbiamo fatto una scelta e cioè quella di organizzarsi collettivamente e il messaggio che vogliamo mandare anche in una fase di questa natura è che da solo uno non va da nessuna parte solo se ci uniamo, solo se ci mettiamo insieme possiamo essere nella condizione di affermare un altro modello sociale e di dare valore al lavoro e alla libertà delle persone perché quello che è avvenuto in questi mesi, in questi anni dimostra come ci sia la necessità davvero di cambiare e il duplice obiettivo di questa nostra giornata di questa nostra grande assemblea è un obiettivo che vuol parlare al Paese e per questo i delegati, le delegate racconteranno diranno le loro storie ma diranno anche quello che insieme dobbiamo fare e dobbiamo affrontare e noi rivendichiamo il diritto non solo di essere coinvolti sulle scelte che vengono realizzate ma il messaggio che vogliamo mandare al governo alle forze politiche e anche alle imprese che questo Paese non si può cambiare senza e contro il mondo del lavoro anzi è necessario rimettere al centro la qualità del lavoro la sicurezza del lavoro il superamento della precarietà come elemento di ridisegno complessivo e allo stesso tempo però il messaggio che vogliamo mandare è anche un messaggio, chiamiamolo che riguarda la nostra organizzazione noi nelle prossime settimane saremo impegnati nell'assemblea che chiamiamo organizzativa perché ci poniamo il tema che abbiamo bisogno anche di rinnovare e di cambiare il nostro sindacato per essere in grado di allargare la nostra rappresentanza di rappresentare tutte le forme di lavoro e il messaggio che oggi noi vogliamo mandare è che il ruolo delle delegate e dei delegati deve essere ancora più forte e più importante di quello che è stato realizzato fino ad oggi abbiamo bisogno di pensare a un'organizzazione che si apre e che è in grado per questa ragione di allargare gli spazi di democrazia e di partecipazione nel territorio così come sostanzialmente nei luoghi di lavoro e per questo abbiamo lanciato questa idea e per questo vogliamo lanciare questo messaggio del resto se ci pensiamo un attimo questa pandemia ha fatto esplodere le diseguaglianze che già esistevano e ha reso evidente anche i limiti del modello sociale del modello economico che avevamo di fronte i livelli di precarietà nel lavoro non sono ormai più sopportabili se ci pensate un attimo in questo anno e mezzo per poter tutelare tutte le forme di lavoro ci si è dovuto inventare forme le più diverse di indennità e devo essere sincero credo che anche nel Paese non deve essere rimosso è emersa la quantità di lavoro precario ma se vogliamo di lavoro sfruttato in alcuni casi di lavoro nero che esiste nel nostro Paese senza cui le persone non sono in grado di poter reggere ecco io credo che proprio per questa ragione noi lo diciamo con molta forza e lo vogliamo rivendicare anche nei confronti del Governo noi non vogliamo semplicemente tornare a prima della pandemia vorrei che questo messaggio passasse forte non solo tra di noi ma verso le nostre controparti e verso il Governo noi abbiamo bisogno di cambiare radicalmente il modello sociale e il modello economico che c'era prima della pandemia e il primo punto di fondo è creare lavoro ma che sia un lavoro non precario e che permetta alle persone di vivere dignitosamente quando pur lavorando sei povero vuol dire che c'è un modello sociale inaccettabile che va cambiato e non è accettabile quello che è avvenuto in questo anno e mezzo lo dico con molta forza perché non solo è emersa la precarietà è emerso che i salari sono bassi è emerso che c'era un sistema di appalti e di subappalti che non ha fine di finte cooperative è emersa il fatto che molto spesso le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare sono costrette a competere tra di loro per poter lavorare perché esistono i contratti pirata perché esistono leggi che permettono di cambiare appalti di cambiare contratti ecco io penso che noi abbiamo bisogno proprio per questa ragione di dire con chiarezza si parla di più di 300 miliardi che il piano nazionale di riprese e resilienza metterebbe sul piatto e come investimenti la domanda che ci dobbiamo fare in modo molto preciso è una quanti posti di lavoro si creano con questi investimenti e quali posti di lavoro si debbono creare con questi investimenti e noi pensiamo che qui c'è un tema l'obiettivo della piena occupazione e l'obiettivo di un lavoro stabile non precario deve essere l'elemento centrale e sappiamo perfettamente che chi ha pagato il prezzo più pesante sono proprio i giovani e le donne dentro a questa pandemia che hanno pagato il prezzo sia in termini di perdita di posto di lavoro in alcuni casi perché il loro lavoro era precario sia in termini di peggioramento delle loro condizioni e di allungamento diciamo così anche della possibilità di realizzarsi nel lavoro che fanno allora qui io credo ci sia un punto decisivo importante che noi vogliamo rivendicare e lo diciamo al governo perché ad oggi noi non abbiamo ancora avuto la possibilità di confrontarci direttamente sulle tante riforme sulle scelte di fondo che debbono essere realizzati lo sappiamo il covid non è finito ancora e lo diciamo con molta forza vaccinarsi è sia un dovere morale sia una responsabilità sociale e noi lo stiamo dicendo da mesi vorrei ricordare a tutti che siamo stati noi il 6 di aprile a firmare l'accordo che aggiornava i protocolli alla sicurezza e che contemporaneamente apriva la possibilità di vaccinare dentro alle aziende e allo stesso tempo se vi ricordate il nostro slogan era è il momento di vaccinare le persone non di licenziarle e questa battaglia noi l'abbiamo fatta non solo in Italia perché vorrei ricordare a tutti che mentre giustamente si sta discutendo addirittura qui da noi in Italia in Europa e in alcune parti del mondo di arrivare anche alla terza o la quarta vaccinazione lo scandalo con cui tutti dobbiamo fare i conti è che nel mondo ci sono persone che invece continuano a morire perché non hanno neanche la possibilità di avere la prima vaccinazione e questo avviene perché non si sospendono i brevetti e perché le forze politiche di tutto il mondo e gli stati non assumono la centralità della salute come un diritto universale di tutte le persone e io credo che questa sia una battaglia che deve essere fatta a viso aperto in modo molto esplicito e che per quello che ci riguarda è un punto fondamentale ed è proprio per questa ragione che noi pensiamo e l'abbiamo detto con molta franchezza che è il momento anche della responsabilità da parte delle forze politiche a partire dal nostro Parlamento noi abbiamo una Costituzione molto bella e noi ci siamo sempre battuti in questo Paese l'abbiamo sempre difesa anche nei confronti di quelli che la volevano cancellare o che la volevano cambiare e noi abbiamo sempre pensato che il vero momento di riforma di un Paese in particolare il nostro è quando si applica la Costituzione la più grande rivoluzione che può fare un Paese democratico come il nostro è proprio quello di applicare i principi fondamentali della Costituzione non solo a partire dal diritto al lavoro ma anche pensando al diritto alla salute pensando al diritto all'istruzione pensando il diritto a un sistema sociale che davvero metta nelle condizioni e al centro la persona e i suoi diritti e per questa ragione noi continuiamo a pensare che sarebbe necessario applicare l'articolo 32 della Costituzione gliel'abbiamo già detto assieme anche a Cisle Will al governo al presidente del Consiglio ai ministri con cui abbiamo discusso l'atto più solidale e l'atto di maggiore intelligenza anche per affrontare le paure le solitudine le fragilità che tante persone ancora purtroppo vivono è quello di assumere una decisione come prevede la Costituzione che renda il vaccino e il trattamento sanitario con il vaccino obbligatorio questa per noi è la scelta la posizione che sarebbe necessario mettere in campo e insisto è l'atto più solidale che oggi tu puoi mettere in campo in questa direzione e noi ribadiamo questa nostra posizione questa nostra convinzione vediamo che la discussione nel governo si sta accelerando qualche mese fa quando si dicevano queste cose vi ricordate addirittura la Confindustria di Bonomi ha detto che questo non si poteva discutere perché non erano tutti d'accordo guardate che assumere una posizione di questo genere vuol dire schierarsi con quelli che non vogliono fare l'obbligo vaccinale perché un'organizzazione sindacale come un'organizzazione di rappresentanza se vuole essere davvero autonoma e indipendente dal quadro politico non ragiona in base a come ragionano le forze politiche ma ragioni in base a quelli che sono gli interessi dei lavoratori del paese in quel momento e difende le sue idee in questa direzione a prescindere da quello che pensano le forze politiche in quel momento perché ci sono le elezioni c'è qualcosa che viene prima che è il diritto al lavoro e il diritto alla salute delle persone e questo elemento noi lo possiamo dire con forza perché quando diciamo questa cosa quando diciamo che oggi questa sarebbe la scelta necessaria da fare noi siamo in coerenza con quello che abbiamo fatto anche un anno e mezzo fa un anno e mezzo fa quando di fronte alla pandemia c'era chi voleva continuare a far produrre e il lavoro e la sicurezza veniva in secondo piano noi non abbiamo esitato a si operare se era necessario per bloccare le attività perché la salute e la sicurezza doveva venire prima del profitto e prima dell'economia come elemento fondamentale e se nel nostro paese unici in Europa siamo riusciti a realizzare un protocollo alla sicurezza e a farlo diventare legge non ce l'ha regalato nessuno questo elemento è l'elemento frutto di una scelta molto importante che noi abbiamo messo in campo e noi questa coerenza come l'abbiamo avuta abbiamo continuato a averla e la stiamo continuando ad avere anche adesso ed è la stessa ragione che ci muove e in più diciamo una cosa molto precisa noi non abbiamo nessuna intenzione di far passare un'idea che gradualmente perché c'è la vaccinazione si può superare i protocolli alla sicurezza non è così i protocolli alla sicurezza il distanziamento le protezioni individuali la salute e la sicurezza vanno mantenuti fino a quando non sarà davvero sconfitto in Italia e nel mondo il virus e non ci possono essere mezze misure o mezze vie in questa direzione per noi la salute e la sicurezza delle persone viene sempre prima di qualsiasi altro aspetto e lo diciamo con molta precisione con molta forza in questo momento perché riteniamo che questo sia l'elemento da realizzare noi lo dico con molta chiarezza non abbiamo nulla di principio contro il grand pass assolutamente nulla anzi pensiamo che sia uno strumento utile importante però è bene ragionare su un punto di fondo la scelta di fare una legge con l'obbligo vaccinale o la scelta di per legge rendere obbligatorio il green pass se vogliamo essere onesti non sono la stessa cosa sono due cose tra loro diverse e in questo senso noi diciamo con molta precisione che se viene assunta una decisione che non è quella dell'obbligo vaccinale in queste ore si leggono i giornali a noi non ci hanno ancora convocato ne abbiamo avuto l'opportunità di una discussione su questa materia vedremo quale sarà l'esito della discussione ma diciamo in modo molto chiaro e in modo molto esplicito che per quello che ci riguarda c'è un punto se attraverso il green pass si affronta il problema del lavoro e cioè non semplicemente si discute se vai a un concerto se vai a teatro se sei al ristorante ma se attraverso questo strumento si intende affrontare il problema dell'ingresso al lavoro e quindi si mette assieme il diritto al lavoro e il diritto alla salute il governo deve seguire la logica del provvedimento che sta discutendo se il green pass mette sullo stesso piano il vaccino e noi siamo per fare le assemblee la campagna informativa perché ci sia la più ampia estensione del vaccino ma se mettono sullo stesso piano questo anche con il tampone per poter andare a lavorare noi diciamo una cosa molto precisa e molto chiara non può essere che le persone per lavorare debbono essere loro a pagare le protezioni individuali che sono previste questo è il tema che anche perché vorrei che fosse chiaro che le protezioni individuali dentro i protocolli alla sicurezza sono sempre state a carico delle imprese sono sempre state assunte al limite come investimenti che fai sulla salute e sulla sicurezza e perché diciamo questa cosa in modo molto banale ma molto semplice noi vogliamo evitare di alimentare divisioni su dispute ideologiche e da questo punto di vista noi abbiamo bisogno di unire il mondo del lavoro e anche quelli che possono avere delle paure delle fragilità non debbono essere lasciati da sole in questi momenti debbono assieme a noi essere convinti arrivare anche al vaccino ma non è il momento né di utilizzare strumenti discriminatori né elementi che possono alimentare delle divisioni e credo che sarebbe un atto di intelligenza se venisse affrontato in questo modo così come abbiamo gestito i protocolli alla sicurezza e così come abbiamo affrontato questa situazione e allo stesso tempo è utile che il governo faccia anche un altro provvedimento questo di aver cancellato l'indennità di malattia quando uno va in quarantena credo che sia una cosa che non ha commenti da fare non so come dirla trovo che sia una cosa priva di senso e credo che semplicemente quello è un diritto che va ripristinato e va messo nella condizione di potersi muovere le ultime due cose che voglio dire riguardano il rapporto con il governo e ciò che noi chiediamo al governo e poi mi fermo e ascoltiamo c'è un primo tema fondamentale che è la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro perché non è accettabile che si continui a morire sul lavoro così come si moriva 30-40 anni fa e come si continua a morire purtroppo anche in queste giornate come è successo anche ieri e qui basta con le dichiarazioni di solidarietà o con le denunce è il momento degli atti e delle decisioni molto concrete si facciano finalmente le assunzioni che debbono essere fatte negli ispettorati del lavoro così come nei servizi di medicina del lavoro si superino le divisioni per cui ci sono gli ispettori o i vari enti che tra di loro non si parlano non si passano la palla si arrivi a far diventare la formazione un diritto delle persone non può essere accettabile come abbiamo visto quello che succede che la giovane che è morte perché era stata assunta con apprendistato e poi era stata messa a fare un lavoro diverso per la quale era stata assunta ed era stato manomesso il macchinario ci sono delle responsabilità anche culturali che debbono essere affrontate così come è il momento di fare la patente appunti così come è il momento di fare la procura diretta così come è il momento di far eleggere in tutti i luoghi di lavoro piccoli e grandi i rappresentanti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e di dargli il diritto e la possibilità di intervenire quando le cose non funzionano e quando le cose non avvengono e lo dico perché non può essere che quando c'era l'emergenza abbiamo fatto il protocollo alla sicurezza abbiamo istituito i comitati in tutte le fabbriche e ce lo vogliamo dire se siamo riusciti da allora a tenere aperte le aziende farle funzionare è perché anche le imprese hanno accettato che di sicurezza e di salute se ne discuteva assieme al delegato al rappresentante alla sicurezza si è assunto che c'era una centralità perché questa esperienza che ha funzionato nel pieno della pandemia e nell'emergenza non deve diventare una norma normale l'attività normale che realizzi sostenuta anche da provvedimenti di legge come è stato fatto il protocollo alla sicurezza come vedete quindi se su questa materia si vuole intervenire bisogna farlo domani il secondo tema riguarda gli investimenti noi siamo ancora in attesa di essere convocati per poter fare l'accordo che permette alle parti sociali sia a livello nazionale sia sul territorio nelle regioni nei comuni di conoscere e di discutere di come vengono realizzati i famosi 300 miliardi di investimenti questo è un punto importante e badate vi faccio un esempio per rendere chiaro il concetto non è solo una questione di riconoscimento del sindacato a livello generale perché noi abbiamo un tema vi faccio questo esempio per essere chiari se si dice come si dice nel piano nazionale di ripresa e resilienza che di qui in avanti nelle nostre città nei prossimi anni dovranno girare mezzi elettrici se si dice che i treni dovranno essere a idrogeno se si dice che tutto ciò che si muove deve avere certe caratteristiche in quel piano sono già previsti centinaia di milioni di euro di investimento per comprare questi mezzi o per realizzare queste cose la domanda banale che ci dobbiamo fare è quei mezzi e quelle attività si producono nel nostro paese si creano quelle filiere produttive che non abbiamo per creare lavoro e far crescere il paese o si comprano in Cina si comprano all'estero per cui quelle risorse non hanno determinato un nuovo modello sociale un nuovo sistema produttivo ma semplicemente dato da lavorare a qualcuno fuori dal nostro paese e badate che questo esempio che l'ho fatto sugli autobus potrebbe tranquillamente essere fatto su tutto il settore delle energie rinnovabili su tutto il settore delle costruzioni perché noi siamo davvero a un sistema di passaggio fondamentale dire che entro il 2050 le fonti fossili saranno esaurite vuol dire che cambia tutta la nostra vita il sistema con cui tu produci e vivi dentro ad un paese e banalmente un processo di cambiamento di questa natura e lo dico con forza non può essere lasciato in mano semplicemente al mercato al dio profitto e all'impresa un processo di questa natura deve avere un indirizzo pubblico e deve mettere nelle condizioni noi lavoratori e lavoratrici di poter usare la nostra intelligenza per discutere di quei processi e di quelle scelte e quindi noi vogliamo una svolta precisa così come ci sono sei temi è davvero finito che noi chiediamo al governo di discutere in modo esplicito il primo si chiama pensioni qui qui hanno fatto una grande discussione quota 100 non quota 100 ieri è uscita anche l'Inps che dice che rispetto ai quasi 900.000 persone che potevano andarci solo 300.000 ma noi l'abbiamo sempre detto anche quando hanno fatto quota 100 noi abbiamo sempre detto che quel provvedimento da solo non era in grado di migliorare o di modificare una riforma sbagliato come quelli che tutti conoscono come riforma Fornero e quindi noi stiamo dicendo in modo molto chiaro insieme a Cisle Will che il governo deve aprire una trattativa e un confronto e i nostri obiettivi sono molto precisi noi pensiamo che dall'età di 62 anni bisogna avere un'uscita flessibile e le persone possono scegliere di andare in pensione pensiamo che a 41 anni di contributo questo dia diritti a poter andare in pensione ma poi ci sono altri tre punti fondamentali uno è questo guardate che il sistema che c'è attualmente fa regole uguali per tutti e siccome un pezzo fondamentale delle nuove regole è che siccome aumenta l'aspettativa di vita progressivamente aumenta sempre l'età pensionabile noi qui poniamo un tema molto preciso non è vero che l'aspettativa di vita è uguale per tutti dipende dal lavoro che fai e questo tema che i lavori gravosi i lavori più pesanti debbono avere un riconoscimento e debbono essere un elemento che cambia il sistema pensionistico è per noi un punto centrale così come ci sono altri due soggetti che hanno pagato pesantemente questa riforma uno sono le donne e quindi noi stiamo rivendicando che venga riconosciuta il lavoro diverso e la stessa differenza che le donne hanno in termini di lavoro di condizione di soggettività e dall'altra parte pensiamo che c'è la necessità di introdurre come si chiama in gergo una pensione di garanzia vuol dire che i giovani e le persone che sono costrette a fare anche lavori saltuari e precari se tu non introduci un sistema che gli copri i contributi anche nei periodi in cui loro non lavorano non perché non lo vogliono fare ma perché non lo trovano si troveranno un futuro a non avere alcuna pensione pubblica e guardate vorrei che fosse chiaro questo punto non dura tanto un sistema in cui io lavoratore quando lavoro pago ogni mese il 33-34% di contributi per trovarmi dopo 40 anni di pensione a non arrivare neanche al 33-40% di pensione una cosa così prima di tutto nella testa delle persone rischia di far saltare l'idea stessa di una pensione pubblica e di un sistema di solidarietà in senso generale c'è poi l'altra cosa collegata a questa la riforma fiscale noi siamo quelli che le tasse le pagano sempre lavoratori e pensionati e quindi siccome si sta discutendo di questo noi pensiamo che sia venuto il momento non di qualche aggiustamento ma di una riforma fiscale vera che allarghi la base imponibile che riduca seriamente l'IRPE sul lavoro dipendente sui pensionati che combatta l'evasione fiscale in modo serio come mai è stato fatto nel nostro paese 120 miliardi di evasione fiscale di questo stiamo ancora parlando è evidente che questa per noi diventa una battaglia fondamentale così come la riforma della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici e sotto gli occhi di tutti cosa ha significato tagliare abbiamo visto cosa ha significato tagliare sulla sanità non c'è bisogno di commenti credo che ognuno di noi ha visto quale differenza si sarebbe stata se c'erano i servizi sul territorio se le persone potevano essere curate da casa se fossimo in grado di stare vicino agli anziani e di affrontare la situazione chi è che ci vieta di avere un sistema di quel genere lì il fatto che in questi anni si è tagliato e si è teorizzato che la strada era quella della privatizzazione e allora oggi è il momento di rilanciare con forza quegli investimenti e anche quelle assunzioni che sono necessarie e questo se ci pensate vale nella sanità ma vale in tutti i settori delle attività pubbliche vale dalla scuola vale ai servizi pubblici dei comuni delle regioni dei ministeri in questi anni sono stati fatti dei tagli molto pesanti e una delle ragioni per cui noi rischiamo di non essere in grado di utilizzare tutti i soldi europei che hanno messo a disposizione è proprio perché in questi anni c'è stata un'operazione di ridimensionamento e di svuotamento dei servizi pubblici e quindi rimettere al centro questa discussione è oggi per noi un punto fondamentale insieme al rinnovo dei contratti assieme ai necessari investimenti anche sul terreno digitale per rendere quei servizi ancora più vicini ai bisogni delle persone e poi noi vogliamo la riforma degli ammortizzatori sociali e vogliamo davvero una politica attiva per il lavoro che faccia della formazione quando parliamo di ammortizzatori sociali pensiamo semplicemente ad una cosa e cioè ad avere un sistema che sia universale tutte le persone che lavorano a prescindere dal rapporto di lavoro debbono avere gli stessi diritti e le stesse tutele sappiamo che una cosa così non la fa in due giorni o domani mattina ma la scelta da capire è se la riforma che si avvia adesso va in quella direzione oppure no con obiettivo centrale perché badate che questo è il modo anche per garantire gli stessi diritti e le stesse tutele la competizione che c'è adesso tra i lavoratori provate a pensare a quello che succede dentro all'appalto al subappalto alle finte cooperative andate dove volete in qualsiasi attività non è così andate nella sanità andate nel pubblico andate in un'industria manifatturiera andate nella logistica andate in un centro commerciale andate dove vi pare quello che è avvenuto in questi anni è proprio il fatto che le persone pur facendo lo stesso lavoro non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele e questo è un tema fondamentale sia di azione sindacale ma anche di politiche che debbono essere cambiate e di leggi che debbono essere modificate per impedire che questo avvenga e così c'è anche un tema che riguarda il problema di come avendo un nuovo sistema di ammortizzatori sociali introduco il diritto alla formazione ed evito una nuova fase di licenziamenti in questo senso c'è il problema sia di come prolunghiamo il blocco previsto per i servizi per il commercio per tutte le attività non industriali il 31 di ottobre e come da qui al prossimo i mesi impediamo che in quel sistema si possano aprire la strada a chiusure e a licenziamenti e allo stesso tempo quello che è emerso in particolare per il comportamento di alcune multinazionali da Far West abbiamo il problema di affrontare anche sul piano legislativo un tema che è emerso le delocalizzazioni esistono da tanto tempo ma è evidente che in questa fase in questo momento trovarci di fronte ad aziende che dalla sera alla mattina decidono di licenziare e di delocalizzare le proprie attività in altri paesi d'Europa semplicemente perché così il costo del lavoro è inferiore questa è una cosa che noi non possiamo più accettare e quindi è necessario proprio per questa ragione che si faccia una legge che si discuta e che si sia in grado di avere una strumentazione che non solo dà qualche tempo in più per sapere quello che avviene ma non può succedere come sta succedendo tante volte adesso che addirittura le multinazionali o i fondi che gestiscono queste imprese non solo licenziano e non vogliono discutere con nessuno ma addirittura impediscono anche che altri soggetti industriali che ci sono possano rilevare quelle attività per continuare a lavorare ecco io credo che questo è un tema che va affrontato e qui ci vuole una forza dello Stato un ruolo dello Stato che sia in grado di affrontare questa questione così come se parliamo di precarietà ma soprattutto di diritti nel lavoro esiste un tema che noi vogliamo rilanciare con forza che riguarda la legge sulla rappresentanza prima di salire sul palco alcune compagne di un'azienda di Como mi hanno dato un volantino perché il 25 settembre hanno proclamato uno sciopero e guarda caso questo sciopero generale parte proprio dal fatto che nel luogo in cui lavorano gli vogliono cambiare il contratto dal contratto pubblico a un contratto privato riducendogli i diritti e riducendogli condizioni di lavoro perché è necessaria una legge sulla rappresentanza nel nostro paese perché noi abbiamo troppi contratti pirata e soprattutto siamo un paese che basta che due soggetti privati a prescindere dalla rappresentanza che hanno si mettono d'accordo e fanno un accordo e lo applicano questo ha un valore di legge e badate che questo come abbiamo visto significa che generalmente chi fa questi accordi sono le imprese che selgono i sindacati con cui gli conviene fare gli accordi a prescindere dalla loro rappresentanza e guardate che questa è una cosa contro i lavoratori ma anche contro la civiltà dei diritti del nostro paese e in questo momento batterci per una legge sulla rappresentanza vuol dire affermare non il diritto del sindacato ma vuol dire affermare il diritto delle persone che lavorano di eleggere i propri delegati in tutti i luoghi di lavoro e che il contratto nazionale sia una tutela il contratto nazionale non è importante per il salario che è un tema fondamentale ma è importante perché il contratto nazionale ti dà anche tutti gli altri diritti le ferie la malattia gli infortuni gli orari gli inquadramenti ed è credo che sia questo l'elemento che noi dobbiamo affermare e allo stesso tempo quando diciamo che il governo oggi deve svolgere anche una funzione importante di indirizzo politico non è solo per le politiche industriali classiche pensiamo anche ad altre vertenze che oggi sono aperte so che oggi ci sono in giro per l'Italia banche in cui i lavoratori stanno si operando perché ad esempio anche in tutto il settore del credito c'è un processo di riorganizzazione e di ridefinizione del ruolo e delle funzioni e a partire dalla vertenza più importante che in questi giorni si sta discutendo credo che non sia accettabile quello che rischia di succedere a Monte dei Paschi di Siena dove un'azienda salvata e controllata con i soldi pubblici si usano i soldi pubblici eventualmente per ridimensionare per licenziare le persone questo strumento non va bene in qualsiasi settore tu lo metti in campo perché la tutela del lavoro e soprattutto i soldi pubblici non debbono servire per licenziare ma debbono servire per creare nuovi posti di lavoro e per dare un futuro sostanziale a questo Paese ecco queste sono le cose importanti che secondo noi vanno fatte e il fatto che siamo qui oggi a discutere è perché noi dobbiamo passare consentitemi la franchezza dalle parole ai fatti non abbiamo molto tempo davanti le cose di cui io vi ho parlato nei prossimi giorni il governo il Parlamento prenderà delle decisioni su ognuna di queste materie noi nei giorni scorsi assieme a Cisle Will abbiamo scritto al Presidente Draghi per avviare un confronto e una discussione su tutte queste materie ad ora non abbiamo ancora avuto nessuna risposta allora io lo dico in modo molto chiaro e molto diretto noi non abbiamo nessuna intenzione d'aver fatto per un anno e mezzo quelli che si sono assunti la responsabilità e attraverso il loro lavoro hanno tenuto in piedi questo Paese perché se oggi si parla di ripresa dovrebbero ringraziare voi che avete lavorato e tenuto aperto tutte le attività non può essere che adesso si dimenticano e che quindi siccome adesso c'è la ripresa si torna alla situazione precedente e con i lavoratori e con le lavoratrici non si discute né delle riforme da fare né del lavoro da creare e allora noi non abbiamo altri strumenti se ci ascoltano e ci danno i tavoli di trattativa siamo pronti a fare il nostro mestiere a fare la nostra parte se questo non dovesse succedere o se le proposte che dovesse mettere in campo vanno da un'altra parte noi dobbiamo fare quello che siamo capaci di fare abbiamo bisogno di tutti voi cioè abbiamo bisogno di mobilitarci di parlare con le persone di fare le assemblee ma se necessario di scendere in piazza non solo stando seduti ma riprendendoci la parola e la piazza perché il cambiamento di questo paese può avvenire solo rimettendo al centro il lavoro la sicurezza e la dignità delle persone e noi abbiamo bisogno della vostra intelligenza e abbiamo bisogno di far capire che a diversità di altri insisto su questo concetto la forza dell'organizzazione sindacale è proprio questa noi non rispondiamo a questo quella forza politica noi non rispondiamo a questo quel potentato no noi rispondiamo all'intelligenza delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e siccome la maggioranza di questo paese è fatto dal mondo del lavoro noi dobbiamo capire che dobbiamo superare quelle divisioni quelle diversità che ancora esistono dentro al mondo del lavoro perché solo uniti saremo capaci di affermare un cambiamento e di cambiare questa strada ma io sono convinto e per questo è importante da domani nei luoghi di lavoro sul territorio nelle leghe di discutere di coinvolgere le persone perché abbiamo bisogno di produrre un cambiamento di fondo in questo contesto e in questo paese e la democrazia nel nostro paese esiste nel momento che c'è un diritto al lavoro certo e nel momento che alle persone è riconosciuta la dignità di essere persone libere e che utilizzano la propria intelligenza grazie per l'attenzione grazie per essere qui grazie per il lavoro che fate ogni giorno insieme uniti ce la possiamo fare grazie e buon lavoro a tutti grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione